E bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Alebben86, buon lunedì 7 novembre a tutti ragazzuoli, iniziamo la settimana videoludica, siamo sempre sul pezzo con FIFA 2023, partiamo e facciamo gli oneri di casa e poi andiamo a giocare Division Rivals, scarsena la giornata potenziata per chi ha visto l'ultimo video di ieri sul canale, avrete visto che ho trovato Momo Salah, la sculata pazzesca, quindi il vostro Alebbeni vi rinnova l'invito, iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che vi sto portando, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video su FIFA 2023, passate a trovarci dalla prima community in Italia di UFL, ovvero UFL Italia e poi ci sono due news, se siete dei fifari, sia esperti, sia alle prime armi come me, il vostro Alebbeni vi invita ad unirvi al gruppo Telegram Ultimate Team FIFA, ragazzuoli vi lascerò il link nei commenti, e al canale YouTube dell'amministratore del gruppo Telegram Alex Cuso, canale YouTube Mr. Cuso, detto ciò Ultimate Team si parte, andiamo! Allora, non abbiamo niente da aprire, niente in negozio, la rosa, pa 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 pa, allora, aggiornamento scarsena, tra i pali come potete vedere Allison, ho venduto Oblak, ci ho aggiunto 2000 crediti e mi sono portato alla mia corte Allison 89, un VGG importante per ibridarlo bene con Momo Salah qui in alto, a rimpiazzare Anthony, infatti siamo intesa 32 di 33 perché dentro Skriniar, se metto Bremer andiamo a 33, ma per il momento giochiamo con Skriniar che è recuperato dal cartellino rosso, dalla squalifica. Poi ho fatto l'upgrade ad Allot che avevo quello 82, ho preso quello del Team of the Week 84 e per il resto non cambia, gli unici sono tre innesti. Allison tra i pali, Allot TD 84 invece di 82 e sua maestà il Messi d'Egitto Momo Salah. Quindi andiamo a provare subito la squadra di Division Rivals, qualche partita l'ho fatta, sono riuscito a raggiungere un checkpoint a metà divisione tra la sesta e la quinta, sono in stallo, il livello è alto, poi per me Pissaro è ancora più difficile, ma ci proviamo ragazzuoli. Division Rivals! Ecco qui, adesso finisce la stagione, quando finisce? Termina tra due giorni e 14 ore la prima stagione e si parte con la seconda, da quello che ho capito più o meno è come i football, dovrei retrocedere, io adesso sono in sesta, dovrei ritornare in ottava. Bom, vando alle ciance, primo sfidante di giornata per il vostro Alebenni, si parte, andiamo a matchmaking. Vediamo il ping a quanto sta, 26, ok, Allison e Varane in sovrimpressione, si parte, andiamo a vedere chi sarà il primo sfidante, speriamo che non prendo le scopole. Allora, lui è piazzato, FC, Augsburg, Mendy, Gomez, è stupido, Zaccaria, Fred, Nunez, Aubameyang, Zaha e quello là non so neanche chi cazzo è. Sulla carta dovremmo essere più forti noi, si parte, la stesa è finita, si comincia da sinistra a destra, Scarsenal. Ibala per Ronaldo, andare a cercare subito Momo Salah, sbaglia tutto Ronaldo, ne approfitta l'avversario, riparte, è messo bene Tonali. Momo Salah, primo pallone, al debutto, è partito, Salah vede Ronaldo che attacca la profondità, sbaglia l'ultimo passaggio, il Messi d'Egitto. Baran, ha messo bene, sbagliamo tutto in ripartenza, ne può approfittare l'avversario ma si è messi bene, esce Dalot. Aubameyang in mezzo, Skriniar, capisce tutto, di qua c'è Dybala che si fa vedere, tempo reggia perché arriva Momo Salah che ne ha, e ne ha tanto Momo Salah. Si fa rubare il pallone però da quello lì che non so neanche pronunciarlo. Pogba, Federico rientra sul destro, vede Ronaldo, sbaglia, fede, capisce tutto Fred, riparte, Zaccaria. Vai Speed, vai Baran, pensavo che era Spina, capisco cosa ci fa Baran lì che è centrale, un rischio Dalot. Per Momo. Tenta il dribbling sulla fascia, non va. Aubameyang, tienilo Dalot, tienilo, tienilo, tienilo. Ronaldo, rientra sul destro, Zaccaria con un numero, lascia Dalot lì, rientra ancora, Allison la fa sua. Allarga subito. Salah, che se la viene a prendere, e riparte lo Scarsenal. È partito fede, lo vede Ronaldo, deve rientrare sul destro, bella la giocata, Ronaldo che attacca la profondità. Ronaldo, Ronaldo, sempre lui. Cambia il parziale, 1-0, il dodicesimo, Cristiano, Ronaldo. Tonali, ci mette il fisico. Sbaglia il passaggio. Si è messi bene, occhio al buco. Capisce tutto, scrigna, sbaglia lo stop, però ne può affittare Darwin Nunez. Nunez, che vedo Aubameyang, Allison si fa bucare così, 1-1, tutto da rifare. Momo Salah, che non è in partita. Non è ancora entrato negli automatismi dello Scarsenal. Bella la giocata in profondità per Zaccaria, rientra sul destro, l'abbiamo capito. Allison, mi fa impazzire Zaccaria, sulla fascia. Cosa ha fatto? Pazzesco, mi regala la palla così. Non facciamo la minchiata. Scrignar, palla al piede, esce. Nessuno che si fa vedere deve andare per vie centrali, dove c'è Tonali, che appoggia per Paul, che vede Ronaldo. Fede attacca la profondità, si ferma, perché entra Ronaldo, anzi Di Bala. La volevo per Ronaldo, io non capisco perché me l'ha data Di Bala, vabbè. Tieni, lo spina. Occhio. Bravo. Salah. Per Di Bala. Ancora per Salah. Per Ronaldo in profondità. Ronaldo, che entra. Col mancino. Non va. Gioca bene lo Scarsenal, però. Spina. Tempo reggia, spina. Varane. Contro Nunez. Allora, meglio Nunez, che rientra. Vede l'inserimento di Gioao Cancelo, che lo vorrei. Varane, dice, non si passa. Riparta lo Scarsenal, palla al piede. Federico Chiesa, messo giù. Fallaccio. Giallo. Niente. Graziato. Skrignar. Per Paul, che appoggia per Tonali. Cos'è? Ancora, Paul. Paul. Sbaglia tutto, Paul. Paul sui chiodi. Tonali, vede Paul. Bella la giocata. Di prima. Per Ronaldo. Che vede Chiesa, che deve rientrare. Ronaldo attacca alla profondità. Chiesa si perde. Chiesa si perde. Varane esce come un animale. A difendere lo Scarsenal con le unghie, con i denti. Lui pressa come un fottuto. Tienilo, tienilo, tienilo. Skrignar è tuo. Skrignar è tuo. Rientro. Uh! Prova ad incrociare Nunez. No, no. Io ho il vizio di giocarla qui. Corta. Paul. Sbaglia tutto, Paul. Sbagliamo tutto. Adesso non sta giocando bene lo Scarsenal. Ne sta approfittando l'avversario. Varane lo mette giù col pallo. È da buona posizione. Vediamo chi sarà a tirare la punizione. Al O'Wai Reign. Contro Allison. Al trentacinquesimo. Del primo tempo. Parte. Facciamo saltare la barriera. Spina! Spina! Lo vede. È partito Ronaldo. È il... Oddio! Che mi stavo lanciando in porta. La fretta però lo fa sbagliare. Spina. Per Paul. In mezzo c'è Tonali che si fa vedere. Larga tutta. Di qua è partito Momo Salah. Momo Salah. Attenzione al debutto. Momo Salah. Campo. Momo Salah. Momo Salah. Momo Salah. Col numero. Salah! Messi d'Egitto si presenta così. 2-1 Scarsenal. Al trentanovesimo. Momo Salah. Al debutto. Che cazzo fa? Quitta. Quitta. Salah fa quittare l'avversario. Quindi raggiungiamo lo step successivo che non è checkpoint. Quindi possiamo subito riprovare una seconda partita. Visto che questa è durata dalla tela Santo Stefano. Salah. C'è. Messi d'Egitto c'è. Allora. Vittoria. Ci prendiamo 252. Crediti. Skippiamo. Andiamo a vedere chi sarà il secondo sfidante di giornata. Questi giocatori sono infortunati. Chi è? Chi è? Chi è? Dalot avrà finito i contratti. Ne ne diamo. 28 partite. Ok. Andiamo al matchmaking ragazzuoli. Fa vedere il ping. 16. Perfetto. Bianchi mi trova. Adesso mi trova uno che mi dà tante di quelle legnate. che è il secondo sfidante di giornata. Buonasera amici. la trottola di Cristiano Ronaldo da cercare un movimento. sbagliamo subito il primo passaggio. Sbaglio. Attenzione. con Cristiano Ronaldo è il primo passaggio con Cristiano Ronaldo. Pogba. Pogba. Chiesa. Capisce tutto Gundogan. Muriel. Al centro. Per Muriel. C'è largo. C'è largo Raffa Leao. Dalot lo tiene. Dalot. Se ne va Muriel. Rientra. Cambia il parziale così. Una doccia gelata per lo Skarsenal. Non me lo sarei mai immaginato. Muller. Cambia il parziale. 1-0. No. Calma. 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 Per questo non esce. Tempo reggia. Sono quegli avversari che più mi fanno... Vabbè. A parte di skillatori pazzi. Ma quelli che aspettano e non escono. Mi fanno impazzire. Di bala. Di bala. Di bala. Bella la giocata. Mendy dice di no. Calcio d'angolo al tredicesimo. Come sempre Tonali dalla banderina. Cercare sempre lui. Sua ammestà Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Anticipato. Riparte contro piede. Si ha messi male. Spina. Vede Chiesa. In mezzo per Ronaldo. Che si gira. E tenta la botta. Tutto chiuso. Attenzione di bala. Perdiamo il tempo della giocata. Alla meglio l'avversario. Può ripartire. Müller. Ancora. Per Raffaleau. Sbaglia tutto. C'è Ronaldo. Di bala che attacca la profondità. Chiede l'1-2 con Chiesa. Entra Tonali. Tonali. Minchia. C'è i piedi quadrati. Ci mangiamo il gol dell'1-1. Bravo Momo. Tenta la bicicletta Momo. Per i fotografi. Fine a se stessa. Tonali. Salah. Sbaglia tutto Salah. Sbaglia tutto Salah. Capisce tutto Baran. Ripartiamo. Ragiona Benny. Ragiona Benny. Volevo Paul. Che era tutto solo in mezzo al campo. Per far ripartire lo Scarsenal. Lui amministra. Sulla fascia. Con Robinson. Si accentra. Vedere Raffaleau. Attenzione. Scivola. Uh. Allison. Allison dice di no. Salva il risultato. Rimaniamo sull'1-0. Dalla bandierina. In questo momento sta giocando meglio il nostro avversario. Bella. Uh. Ragazzi. Mi fa impazzire con quei micro movimenti. Baran la mette fuori dove non c'è nessuno. Scrinia. Riparte lo Scarsenal. Contropiede. Contropiede. Guardalo di qua. Di Bala. Fermati. Entra Ronaldo. Dagliela che se ne va Cristiano. Se ne va Cristiano. Se l'allunga Cristiano. Prova la botta ad incrociare Cristiano. Uh. Facciamo paura quando veniamo giù. Robertson. Fa paura anche lui quando viene giù però. Muller. Rientra. Lo capisce. Si appoggia. Aia. Eh sì. Eh sì. Fa paura anche lui quando viene giù. Amministra bene. Fa girare palla. E trova il buco. Muriel. 2-0. Forte. Gioco semplice ma efficace. Ma su FIFA non è mai finita. Recupera. Dammelo. Dammelo che l'ho capita. Vai Salah. Brucialo. Parti Salah. Minchia. Gliela regaliamo a lui. Eh lui non la. Lui la regala a noi. In mezzo. Uh. Rischio ragazzi. Rischio. Varane. Ragiona Benny perché lui è forte. Mamma mia ragazzi tonali. Devo prendere Barella. Eh Di Bala. Non sa chi darla. Non sa chi darla. Anche se schiaccio l'L1 per fare partire i giocatori. Lui dà una bella boccia. Cerchiamo di riaprire sta partita. Cerchiamo di riaprire sta partita. Eh tempo reggia. Mi aspetta. Mi aspetta. Qui c'andrebbe uno che sa skillare. Gli va sotto. Gli fa una skill e lo lascia lì. Come mi lascia lui lì. Come mi lascia lì. Tutta di qua. Vai Sala. Si lancia da solo Sala. Si lancia da solo. Deve rientrare. Non c'è nessuno. Entra adesso. Bella. No Cristiano. Prendila però. Perdiamo il rimpallo. Riparte l'avversario. Partita tosta. Leao. Lascia lì Dalot. Capisce tutto Skrignal. Dagliela. Dagliela sulla corsa. Ronaldo. 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 Parco Dio. Azzo. 2 a 0. Fine primo tempo ragazzi. Partiamo subito col secondo tempo. C'è solo una squadra in campo. Quella del mio avversario. Vediamo se è pronto. Sì è pronto. Si riparte. Sul 2 a 0. Ecco il cazzo di inizio al secondo tempo. Non è che l'ha capita. Eh non gli arriva mai più Ale quella palla lì. Non è il football. Questa gli arriva però. Ronaldo che lotta. Vede Chiesa che entra. Bellissima. Rimorchio. Sì. Grande. Bella giocata dello Scarsenal. Corciamo le distanze. Sempre lui. Il zoom. Capisce tutto Cristiano. Deve rientrare. Fallo. E fallo. Eh ma da qui. C'è Paul. La proviamo. Proviamo la cartella con. Anzi. Proviamo Cristiano Ronaldo. Proviamo la cartella con Cristiano Ronaldo. 34 i metri quasi. Parte Cristiano Ronaldo. Centrale. Cazzo che è andato a vuoto Spina. Sei grande Varane. Fede. Eh la strozza Fede. Sbaglia anche lui però. Così. Così. Di bar. C'ho sto vizio di stirare. Di fare sto cazzo di power shot. Per carità se. Viene. Madonna vogliamo giocare nello stretto. Lui non esce. Lui non esce. Entra Cristiano. Entra Cristiano. Entra Cristiano col tempismo giusto. L'area ghanciamo 2 a 2. Siamo ancora vivi. Grande Cristiano. Ciuuu. Tieni lo. Tieni lo. Sbaglia. Vai chiesa per Ronaldo. Di bala. No no no. Devo aspettare per l'1-2. Devo aspettare. Devo aspettare. No 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 no. Rientra. Grande Allison. Subito. Cercare Ronaldo a farla sponda. Troppo lunga. Ce l'ha ancora lui. Madison per Gundogan. Apparecchia per Müller. Così. Vai Momo. Di bala. Al centro c'è Paul che si fa vedere. Largo tutto c'è Fede. Largo tutto c'è Fede. Che si lancia Fede. Ronaldo. No L1 triangolo così. Bassa gliela data. Bravo Spina. Mettici in fisico. Fagli sentire i denti. Ronaldo col colpo di tacco di prima. Perdiamo il tempo della giocata. Può ripartire l'avversario. Spina. Spina sei grande. Guarda Ronaldo che si fa vedere. Subito a Di bala. Largo per Fede. Largo per Fede che se ne va. Fede. Deve rientrare. In mezzo. C'è Di bala. Arca puttana ragazzi. Che trampe facciamo la remuntada. Ci credo. Ci credo. Ci credo. Ci credo lo Scarsenal. Tienilo. Tienilo. Così. Deve rientrare. Occhio. Occhio al buco in mezzo. Bravo. Salah. Di bala. No. Adesso si riesce. Parla persa sulla tre quarti. Così è brutta. Parla persa sulla tre quarti. Così è brutta. Allison. Occhio. Occhio che rientra. Bravo. Riparti. 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 risolta il problema. Ronaldo. Tempo reggia. Fa salire Momo Salah. Non riesce la giocata. C'è un pressing casfissiante. La doppio di marcatura. Rientra. Così. Bravo. Guarda Momo Salah che si fa vedere. Largo. Lo brucia sulla corsa. Se ne va Momo Salah. Non ha il fisico. Robertson sì. E la fa sua. Riparte l'avversario. Bella partita. Spina tienilo che gliela dà. Rientra quadrado. Capisce tutto. Così. Di qua larga. Di nuovo Adibala. Che dà a Ronaldo in profondità. Ronaldo attacca la profondità. Rientra sul destro. A giro. Cristiano. Madonna. Mendy al settantasesimo. Salva tutto. Don Ali. Dalla bandierina. Cristiano. Cristiano. Cristiano con la mezzetta. Madonna ragazzi. Faccio un gol così. Veramente. Ma cosa fa? Si era inventato Cristiano Ronaldo. Switchamelo. Capisce tutto Spina. Dai ragazzi. Adesso. È il momento giusto. Di pala. San Lunga Gomez. Ronaldo perdiamo il rimpallo. Switchamelo di qua. Capisce tutto Spina. A vuoto. Aia. 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 Chiesa. Dagliela subito. Ronaldo. Sì. Ronaldo. Ronaldo. Di pala. Rientra. Dice che si è andata. No. No. Punizione. Facciamo due cambi. Dai. Allora. Facciamo così. Di balino è un po' cotto. Di balino è un po' cotto. E ci mettiamo Muriel. Poi Chiesa pure. E ci mettiamo lui. Salah lo lasciamo perché ha 200 di resistenza. E proviamo a spingere con un quadrado sulla fascia. E McKendie al posto dei polli. Boh. Vediamo se riusciamo a portarla a casa ragazzuoli. Sarei già soddisfatto così eh. 2 a 0 2 a 2. Però. Fatto 30. Cerchiamo di far 31. Ottantatresimo in minuti. Sette minuti più recupero. Sì. Entra bene. Di balino. Muriel ha penetrato. Si presenta così. Muriel. 3 a 2 Scarsenal. Primo pallone che tocca. La butta dentro. Rimuntata compiuta. E adesso teniamo duro ragazzuoli. Che manca poco. Uno contro uno del potere. Ti sarei spettato la sua ultima di potenza. E inizio ci ha sorpreso. Sì. Rafael. Gestiscila bene. McKennie. C'è largo tutto. Lo vede. La sovrapposizione. Fammela la sovrapposizione. Quadrado si è appena entrato. Puttana Eva. Sì. Gestiscila che è tutto chiuso. Trova il barco adesso. Ronaldo. Sì. E' finito. Oddio. Spaccalo. Spaccalo Momo. Oddio. Come cazzo è andato giù veloce. Mendy. Calcio d'angolo. C'ho una paura di prendere il contropiede. Ronaldo. Mendy esce. La fa sua. Tutti dietro. Tutti dietro. Oddio. Esci. Vattene. Skriniar. Via. Palla lunga. Per Muriel. Andiamo in ultradifensivo ragazzoli. Che paura. Sì. La facciamo nostra. Ronaldo. Temporeggia. Lo vedi. Leao. Che fresco. Leao che fresco. Rientra. Proviamola da qui. Oh mio Dio. Colasso. Euro goal questo ragazzi. Questo è un euro goal di Rafa Leao. Pazzesco. È chiusa. Spettacolo Leao. Che gol ragazzi. Col sensazione. Col power shot. E ancora questo sensazionale. Sensazionale sui football. 117 km all'ora. Madonna. Che gol. Che gol. Chiudiamo in bellezza ragazzuoli. Spettacolo. Spero che vi siate divertiti con queste due partite. Una più bella dell'altra. Questa qui da apoteosi proprio. Remuntada. Da 2 a 0 a 4 a 2. Quindi. Ci prendiamo i crediti ragazzuoli. Il vostro Alebbeni. Chiude il video con queste due belle partite. Due vittorie da parte del nostro Scarfenal. La squadra c'è. I giocatori pian piano arrivano. Abbiamo sculato. Speriamo di sculare ancora. Perché non scioppiamo. Chiudo il video. Un saluto a tutti dal vostro Alebbeni86. Alla prossima su FICO 2023. Ciao bedazzi.